Per far crescere il Regno di Dio, la Chiesa ha sempre avuto il coraggio di gettare il granello di senape e di mescolare il lievito, ma a volte ha avuto paura, preferendo una pastorale di conservazione. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, prendendo spunto dal brano del Vangelo di Luca, nel quale Gesù paragona il Regno di Dio al granello di senape e al lievito. Sono elementi piccoli, eppure hanno dentro una potenza che cresce. E la forza interna che ci porta in speranza la pienezza del Regno di Dio, ha chiarito il Papa, è quella dello Spirito Santo. La speranza di uscire da questa limitazione del mondo è arrivare alla gloria. Ma il granello di senape va gettato nel giardino e il lievito va mescolato per far crescere il Regno di Dio, che cresce da dentro, non per proselitismo. E sempre la Chiesa ha avuto sia il coraggio di prendere, gettare, di prendere, mescolare, anche avuto la paura di farlo. E tante volte noi vediamo che si preferisce una pastorale di conservazione e non di lasciare che il Regno cresca. Ma rimaniamo quelli che siamo, piccolini, stiamo sicuri che il Regno non cresce. Perché il Regno cresca ci vuole il coraggio di gettare il granello, di mescolare il lievito. Guai a quelli che predicano il Regno di Dio con l'illusione di non sporcarsi le mani, ha concluso Francesco. Questi sono custodi di musei, preferiscono le cose belle e non questo gesto di gettare perché la forza si scateni, di mescolare perché la forza faccia crescere.